Cari concittadini, insieme abbiamo lottato per l'acqua pubblica, contro le restazioni dell'AIG. Insieme possiamo cambiare i rappadali, dare voce agli ultimi, sostegno alle famiglie, con anziani, con persone diversamente abili, per una città a misura di bambino, recuperando e creando nuovi centri di aggregazione e socializzazione, per una rappadali più equa, più solidale, più democratica. Con tutto lo mondo sindaco, la città avrà un futuro diverso, perché sarete voi cittadini i veri protagonisti. Saranno promosse e implementate le attività produttive, sfruttando i fondi europei, daremo il via ad attività culturali, rendendo vivo e funzionale il villaggio della gioventù, promuoveremo attività sportive e ricreative per i giovani, daremo un nuovo volto al centro storico di Raffadali e completeremo l'iter del piano urbanistico comunale. Per l'acqua pubblica, per una più equa tassazione, il 4 e 5 ottobre, dai un taglio al passato, scegli il cambiamento, scegli l'onestà e la competenza, il 4 e 5 ottobre, vota minimo tutto lo mondo sindaco. Scrivi Sabrina Mangione. Crediamoci ancora, la politica è bella, partecipiamo e cambiamo Raffadali. Il 4 e 5 ottobre, vota domenico tutto lo mondo sindaco, Scrivi Salvatore Lombardo. un grazie a tutti.